Non l'ho detto, però dovreste essere in grado di capire da soli, ormai siete adulti e vaccinati. La parte reale di questo, come tutti sanno, è il coseno di teta e la parte immaginaria è il seno di teta. Quindi se queste frecce gialle rappresentassero il numero complesso, il coseno in questo punto quanto vale? Quanto vale qua? Quanto vale qua? Quanto vale qua? Quindi io potrebbe disegnare il coseno, cioè io potrei cancellare questo e disegnare in questo punto il valore della coseno che vale 1, quindi il problema è che non voglio farlo, però dovete immaginare che qua io ho un altro cerchio, questo è il cerchio dei numeri complessi, potrei immaginare il valore del coseno qui vale 1, come lo disegno? Perché qua quando è così, no? Quanto vale coseno? Vale 1, il seno vale 0, la parte reale vale 1 qua, qua la parte reale cosa vale? eccetera eccetera eccetera, quindi qua voi avete un coseno che si sta propagando oppure il seno che si sta propagando. Quello che ho disegnato qua sono i numeri di olero, quindi questi sono i punti dove la parte reale vale 1, ok? D'accordo? Qualsiasi di questi qua, guardate, questi punti qua dove vale meno 1, anche quello si propaga, cioè voi potete fissare qualsiasi fase, qualsiasi punto e poi andarla a cercare dove in un istante futuro, in un altro istante, in un altro luogo, la stessa fase, e quindi questo punto che segna questa fase si sta propagando verso destra, qualsiasi di questi potrebbe essere usato per andare a cercare altrove dove si trova questo valore, eccolo qua, d'accordo? Questi valori si stanno propagando verso destra, quindi il disegno in termini di un coseno è più complicato da fare, per quello ho scelto la notazione delle frecce dei leolero, è più facile da disegnare, pensateci un attimo. Vorrei fare un'altra cosa rapidamente, sempre su questa scia qua, dovrò disegnare un sacco di frecce, un sacco di cerchi, quindi vi portate in pazienza, fatelo anche voi. Questa formula qua, che è appena cancellato, questo è un tormentone in fisica, in particolare quando si discutono le equazioni elettromagnetiche, cioè nel vuoto, quindi non in materia, non attraverso plastica oppure vetro, a rigore nemmeno nell'aria perché non è vuoto, non nel liquido, non nell'acqua, ma nel vuoto vale questa equazione qua. Tutte le onde elettromagnetiche viaggiano sempre a velocità c, nel vuoto, nel materiale non è così, le onde elettromagnetiche all'interno del vetro viaggiano a velocità più bassa, nel vuoto, che hanno tutte la stessa velocità e il legame tra la lunghezza d'onda e la cosiddetta frequenza è legato in questo modo, ma di nuovo cos'è la lunghezza d'onda? la lunghezza d'onda è due pi greco fratto quel k che appariva, eccolo là su, quel k là. Cos'è la frequenza? la frequenza, uno sulla frequenza è il periodo dell'onda e questo è legato all'omega che l'ha in questo modo, quindi questa è la velocità spaziale, la velocità temporale, uno sulla velocità temporale si chiama la frequenza e quindi questa è la formula che lega la lunghezza d'onda con la frequenza e con la velocità della luce, ovviamente questo può anche essere scritto così, sono le due formule che dovete conoscere. Questo è evidente che se per esempio io metto, non so, da luce visibile qualche migliaio di angstrom, mettiamo, non so, 5.000 angstrom, qual è la frequenza associata a una lunghezza d'onda di 5.000 angstrom? Sarà un rosso, un rosso un po' profondo, di 4.000, 3.000, questo è un po' lungo, più lungo di 3.000. Cos'è un angstrom? Un angstrom è 10 alla meno 10 metri, quindi qual è la frequenza associata a questa? Cosa fa una persona? La frequenza è uguale al c fratto lambda, e quindi uno mette 3 per 10 alla 8 metri al secondo, diviso 5.000 angstrom, 5.000, sono 5.000 angstrom, sono 10 alla meno 10 metri, e vedete che avete, questi sono 10 alla meno 7, ma prendo in prestito, facciamo diventare, questo qua facciamo 30 per 10 alla 7 metri al secondo, prendo in prestito un 10 qua per fare 30, 5 per 10 alla meno 7 secondi, a metri, scusatemi. Quindi il 30 diviso 5 fa 6, e questi sono circa 6 per 10 alla 14 secondi alla meno 1. no, quella è la frequenza, quindi sono 10 alla 14, più di 10 alla 14 ciclo al secondo, nella luce di 5.000 angstrom, d'accordo? Quindi la luce visibile ha una frequenza molto elevata, se invece io ho una lunghezza d'onda di non so cosa potrebbe essere un microonde di un centimetro, qual è la frequenza? d'accordo? D'accordo? Se io faccio 3 centimetri, e questo è sbagliato, un millimetro, no? No, no, era giusto. 3 centimetri, avrei 3, più di 3 centimetri comincio a avere Gigahertz, queste sono 10 Gigahertz. Ovviamente la stessa formuletta appare in altre applicazioni, per esempio la propagazione delle onde elastiche in un mezzo, ci sarebbe una formula Sivel, no? Avrei la velocità del suono, sarebbe così. Qua invece di avere 3 per 10 alla 8, o magari qualche centinaio di metri al secondo, no? La velocità del suono dentro l'acciaio potrebbe essere 10 volte di più. Non a caso gli indiani mettevano le orecchie sui binari per sentire arrivare il freno, no? Perché sentivano il suono nel metallo prima di sentirlo nell'aria. Giusto? Sapete sto trucco, no? Quindi è una formula che viene fuori. Poi riprendo il discorso che voglio fare, quello dei cerchi. Posticipo perché è sempre molto pavoloso per me disegnare i cerchi sui cerchi, ma faccio un discorso un po' più concreto prima di farmi venire voglia di farlo. Supponiamo che io vi dica, questo è un campo elettrico che ha in una zona di spazio dove non ci sono né cariche né densità di correnti, non c'è densità di cariche, non c'è densità di correnti, zona vuota. Quindi a priori dipende da x, y, z e dal tempo. E la scrivo così. La scrivo come un... ovviamente se io scrivo così, potrei anche scrivere seno, eh? Se io la scrivo così, ovviamente è incompleto. Perché è incompleto? Perché questo è un vettore e non ho ancora specificato qual è la direzione. Mi serve una direzione e mi servirà un modulo. Va beh, questo è qualcosa in uscita tra 1 e meno 1. Se io scrivo così, e scrivo per esempio così, cosa sto dicendo? Sto dicendo che ho un'onda elettrica di tipo cosenoidale. Se la parola esiste, esiste cosenoidale. Si usa cosenoidale, si usa, ma si dice cosenoidale. È un'onda elettrica, guardate cosa mi sta dicendo. Propaga in quale direzione? Propaga nella direzione x. La direzione di propagazione ve la dà questa. Che dovete ricordare è questa qui, no? Quindi questa vi sta dicendo che propaga nella direzione degli x crescenti. Vedete che c'è il segno meno? Il segno meno vuol dire che propaga nella direzione degli x crescenti. Ma qual è la direzione del vettore? Istante per istante il vettore è nella direzione y. Quindi questo è un esempio di un'onda trasversa. Cioè io potrei forzare a disegnare una cosa del genere, dove questo rappresenta l'asse x, questo rappresenta l'asse y, e mi sembrava che questo campo l'abbiamo disegnato sul tempo. Tante settimane fa. Quindi qua per esempio tutti i punti che hanno x uguale a 0 io potrei disegnare la freccia. In questo punto per esempio io voglio disegnare la freccia nell'istante t uguale a 0. Cioè io voglio fare una istantanea di questo campo elettrico nell'istante t uguale a 0. Quindi immaginate che questo sia uguale a t uguale a 0. Quindi io ho, se volete, t uguale a 0. Quindi qual'è la freccia che disegno qua? E' una freccia campo elettrico, quindi un certo numero di volt su metro, nella direzione u di y. Quindi io disegnerò una freccia. E quanto è il modulo? E' uguale a 0. Perchè il coseno, quando x uguale a 0, questo vale 0. Quindi coseno di 0 vale 1. E quindi il modulo del campo elettrico nel punto x uguale a 0 vale E0. Quindi io disegnerò una freccia che per esempio è così. Ok? Questo è il valore di E0. Adesso, voi sapete tutto della funzione coseno, giusto? Sapete tutto della funzione coseno. Guardate questa fase. Questo è il grafico della fase in funzione di x. Questa è la fase che chiamiamo kx. E la fase è una retta. Ok? Quello che mi sta dicendo kx è che la fase vale kx. La fase del coseno, l'angolo, l'argomento del coseno è proporzionale a x. Quindi, qual è il valore di x quando io mi sposto nella direzione x? Di quanto mi devo spostarmi per avere una fase di 2pi greco? Perchè 2pi greco è speciale? Perchè il coseno è periodico. D'accordo? Quindi io mi chiedo, questo 2pi greco qua, quando lo raggiungo come valore? Lo raggiungo per questo valore di x. E questo valore di x è quello che si chiama la lunghezza d'onda. D'accordo? E la distanza che mi serve per avere un aumento di fase 2pi greco e per la periodicità del coseno avrò lo stesso valore del coseno. D'accordo? Quindi immaginate che questa sia la distanza. Quindi attenzione, questo è una istantanea. Tutti i punti dello spazio hanno lo stesso istante t. Immaginate che questa sia la distanza che corrisponde alla lunghezza d'onda. Quindi in questo punto qua, o per quello in tutti questi punti, quindi questo punto qua ha lo stesso valore di x. Quindi anche qua lui avrà una freccia tale quale. Questo punto qua che ha lo stesso valore di x avrà una freccia tale quale. ovvero tutti i punti, tutti i punti che hanno lo stesso valore x uguale a 0 avranno la stessa freccia. D'accordo? Se questo è un punto che dista da questo una distanza lambda, lambda è quel valore x per il quale avrei un cambiamento di fase 2pi greco. Quindi qua avrò esattamente la stessa freccia. Qua, in questo punto, avrò lo stesso valore di freccia. Tutti i punti che condividono lo stesso x hanno lo stesso valore di freccia. perché vedete, il campo elettrico dipende solo da x. Può variare da, potete, tutti i punti che hanno y e z diversi avranno lo stesso campo elettrico se condividono lo stesso x. D'accordo? Quindi tutti i punti che stanno su questo piano, che esce dalla lavagna, che hanno x uguale a 0, avranno tutte frecce rivolte, tutte identiche a queste. Certo, nell'istante c uguale a 0. Questo è un altro piano, avranno la stessa freccia di questo qua. Quindi anche qua su, d'accordo? Tutti i punti hanno esattamente lo stesso valore. Lambda mezzi, la fase è pi greco. Quindi il cosero vale meno 1. Quindi in questo punto qui, che è metà, io la farò. E qua dovrei avere, non ho abbastanza spazio. Siete d'accordo? Quindi voi dovete immaginare di disegnare, magari lo faccio in giallo. In questo punto, che sta a un quarto della lunghezza d'onda, la fase è di pi greco mezzi. Coseno di pi greco mezzi vale 0. Quindi in questo punto il campo elettrico è 0. Idem qua. Quindi dovete con un po' di pazienza fare il disegno. Eccetera eccetera eccetera. D'accordo? Questo è t uguale a 0. Al passare del tempo, all'aumentare del tempo, cosa fanno questi punti? Questo punto qua, in questo punto cosa fa il campo elettrico? Scende. In questo punto cosa fa? Sale. In questo punto cosa fa? Salirà. Cioè cosa sta succedendo? Dovete immaginare questo spostato verso destra. Quindi, di nuovo, qual è la rappresentazione più efficace? Secondo me i cerchi che ho fatto io. Perché è molto più complicato a fare questo disegno. Quindi dovete immaginare che, per esempio, dopo un po', devo fare una decisione artistica. Quale farò? Farò la decisione artistica che magari in questo punto, dopo un intervallo di tempo, magari un certo t, faccio passare un po' di tempo. Nell'istante futuro, questo punto dove il campo giallo era 0, magari trovo il valore vero, il valore pieno voglio dire. E questo che era il valore pieno lo trovo 0. Quindi il campo sta facendo così. Quindi questo qui diventa 0. Quindi ho una cosa di questo tipo. Questo diventa il valore massimo. Cioè la curva viola è la gialla spostata a destra. D'accordo? No, scuota la testa perché non è d'accordo. E' difficile questa rappresentazione. Quello degli orologenti era più carino. Per quello non amo fare questa versione qua. Questo è un esempio di un'onda di tipo cosenoidale che si propaga, certo, nel dov'è, eccolo qua. Che si propaga, ci faccio il quadrato attorno così si legge meglio. Ignorate le frecce gialle sopra. Questo è un campo, è un'onda, è un'onda che propaga nella direzione x e si dice che è polarizzato nella direzione y. E' un'onda trasversa, trasversa. Cioè la freccia, il campo vettoriale, è perpendicolare alla direzione di propagazione. Vedete che istante per istante le frecce sono nella direzione y. La propagazione avviene nella direzione x. E' un'onda trasversa. Quindi l'esempio di un'onda trasversa è quello dove c'è una corda e uno fa così. Qualcuno può venire qua un attimo? Venga, venga. Venga. Aguanti questa estremità, stia fermo. La tortenga vicino al tavolo. Diamo un'estremità libera. Questa è un'onda trasversa. Questa è un'onda longitudinale. Lo vedete? Non si vede anche perché c'è l'attrito. Se io attaccassi un pezzo di spago qua, un pezzo di scotch, lo vedreste. Così è un'onda longitudinale, adesso la disegniamo. Questa è un'onda trasversa. D'accordo? Attento che sta per arrivarti un'onda di compressione longitudinale. Scrivete un'onda longitudinale. Questa è un'onda longitudinale. Perché il campo elettrico, il vettore è nella direzione di propagazione. Vedete la U, la U vi dà il verso del campo elettrico. Invece la dipendenza qua dentro, questa vi dà la direzione di propagazione. Dovete saper leggere. Questa vi dà il verso della freccia, questo vi dà la direzione di propagazione della freccia. In questo caso la propagazione è nella stessa direzione del vettore U. In questo caso la propagazione è perpendicolare alla direzione del versore. Questa è un'onda trasversale. Questa è un'onda di tipo cosenoidale longitudinale. Quindi le frecce qui come sarebbero? E' ancora più difficile disegnare. Di nuovo questo l'avevo fatto un tempo fa. Se questo è x uguale a 0, tutti i punti x uguali a 0. Qua avrei la freccia così. A un punto qua, x uguale a lambda, avrei in questo punto la freccia identica. In un punto che è a x mezzi avrei una freccia che è girata. Vedete che è difficile perché ho il disegno, la faccio apposta un po' più grande così le frecce non si sovrappongono. Immaginate che questo sia x uguale a L. Questo è un x uguale a lambda mezzi, non L. Lambda mezzi, lambda quarti, 3 lambda quarti. Quindi a lambda quarti, qua ho la freccia magari a valore pieno. Qua cosa ho? 0! Il vettore nullo. Qua cosa ho? Una freccia che è così. Qua cosa ho? 0! Qua cosa ho? Così! D'accordo? A questo punto stesse frecce perché condividono x. A questo punto condividono x, 0. A questo punto è così, a questo punto è così, a questo punto è così. Questa è un'onda longitudinale. E ovviamente questo sta propagando verso destra. Quindi dovete immaginare di disegnare delle frecce viola che rappresentano la situazione corrispondente a questa. Questa è un'onda longitudinale, come l'onda di compressione che c'era sulla molla. Questo è il tipo di onda che si ha con il suono. La pressione avanza in questo modo. L'aria è compressa e rarefatta, compressa e rarefatta. Invece le onde elettromagnetiche sono di questo tipo. Non sono di questo tipo. Perché non sono di questo tipo? Qualcuno ve l'ho già detto a suo tempo. Le onde elettromagnetiche non sono così. Quindi questa non può essere un'onda elettromagnetica nel vuoto. Quindi questa onda longitudinale non può essere un'onda elettromagnetica nel vuoto. Proibito. Perché è proibito? Perché le onde elettromagnetiche del vuoto sono invece così. Le onde elettromagnetiche del vuoto sono trasversali. Trasversali. Perché? Perché nel vuoto, come stiamo discutendo le equazioni di Maxwell nel vuoto, nel vuoto la divergenza di E è uguale al 0. Ed è evidente che un campo così ha divergenze verso il 0. In questa zona dello spazio, se io faccio una scatola chiusa, ho frecce che entrano, come le frecce del cadavere di un cowboy ammazzato dai shoe. Qua invece ho le frecce che escono, come un porcospino. Quindi avrei un volume chiuso con un flusso diverso da 0. Qua avrei un volume con un flusso positivo. Qua avrei un volume con un flusso negativo. Ma la legge di Gauss mi dice ragazzi, se avete la divergenza è perché avete una rho, detto nel linguaggio degli integrali, se avete un flusso è perché dentro la superficie c'è una carica interna. Quindi se qua c'è un porcospino vuol dire che qua dentro si deve essere una carica positiva. Ma non c'è carica perché è vuoto! Quindi qua il campo elettrico nel vuoto non può essere fatto così. Non rassomiglia al suono, rassomiglia più alle onde su una corda fatta fare così, dove avete la propagazione certo in quella direzione ma l'increspatura sull'onda è così, sta viaggiando in questo modo. D'accordo? Quindi un po' del linguaggio. Nel vuoto le onde elettromagnetiche di tipo sinusoidale o cosenoidale sono trasversali, cosa vuol dire trasversali? Che la direzione del campo elettrico è perpendicolare alla direzione di propagazione. La direzione del campo elettrico si chiama la direzione di polarizzazione. Quindi questo campo che adesso lo scrivo perché era stato rovinato dalla scritta, non devo riscrivere tutto, restauro questa parte qua. Questa è un'onda che è polarizzata nella direzione Y. Quindi se io scrivo una cosa del genere, voi la guardate e vi chiedo due domande. In quale direzione polarizzata e in quale direzione si propaga? Si propaga nella direzione Z ed è polarizzata nella direzione X. Allora, tra le tante cose carine che ho, ci sono, lo avete mai giocato con i filtri polaroid, purtroppo il proiettore è scassato perché questa è la classica cosa che uno metterebbe qui con la proiezione e lo farei sulla tavola luminosa. E la tavola luminosa non funziona, e la tricota. e la tricota. Ovviamente dovrò spostarmi, prima faccio vedere a voi. Vedete che passa la luce? Vedete che passa la luce? Passa la luce? Passa la luce? Guardate, vedete? Io sto ruotando relativamente l'un lato, guardate come è diventato buio. Vedete? Chi lo vede? da buio penso alla trasparenza. Questa è la dimostrazione che la luce è di fatto trasversale. Quello che succede è questo. Allora, prima vi dico cosa succede, poi magari vi racconto una metafora, ma la metafora è sottimente sbagliata. Prima faccio la metafora. Questo che si trova nei libri di divulgazione, magari avete visto le medie, dove uno ha la sua corda, e fa un'onda trasversa, cioè fa così con la mano, generando un impulso. D'accordo? Questo impulso si mette a viaggiare. Si mette a viaggiare. D'accordo? Allora, una curiosità. La corda avrà una certa massa per unità di lunghezza, una certa massa per unità di lunghezza. Chiamiamo la massa per unità di lunghezza, che so, lambda. No, lambda no, perchè non voglio confondermi con la lunghezza d'onda. Per carità, che vi perdete in un bicchiere d'acqua, la chiamo, che so, mu. Mu ha le dimensioni di una massa per lunghezza al meno 1. Immaginate la corda sia in tensione, sia in tensione. D'accordo? E chiamate T la tensione del filo. La tensione è una forza, e quindi cosa ha la dimensione di una forza? Ha una massa per una lunghezza per un tempo al meno 2. Ok? Sia T la tensione del filo, e mu la massa per unità di lunghezza. Qual è la velocità di propagazione? Come dipende dalla tensione della massa? Come fate? Qual è la velocità qua? Come dipende da mu e da T? Cioè se voi aumentate T, cosa succede alla velocità? Se voi aumentate il mu, cosa succede? Se voi raddoppiate il mu, cosa succede? Cioè come dipende? Analisi dimensionale, no? Analisi dimensionale. Voi volete costruire una velocità? E avete due cose, la tensione e la massa per unità di lunghezza. Quindi sarà una certa funzione di questo e di questo. Allora mettete T alla alfa e mu alla beta. E volete costruire una velocità. La velocità cos'è? La velocità è una massa alla zero, una lunghezza alla uno, un tempo alla meno uno. E voi state cercando di costruire questo con una combinazione opportuna di tensione e di massa. Fatelo prima che non faccio io. Coraggio! Come si fa? Allora, questo è mLT alla meno due alla alfa, tensione, per mu e mu è una massa per una lunghezza alla meno uno alla beta. D'accordo? Quindi lavoriamo sul lato destro. Avete m alla alfa per m alla beta, quindi abbiate m alla alfa più beta. Le lunghezze come avete? La stessa cosa. L alfa e qua meno beta. Siete d'accordo? Il tempo com'è? Qua avete T alla meno due alfa meno beta. Ho fatto giusto? m alla alfa, m alla beta, quindi m alfa più beta. L alla alfa, L alla meno beta, T alla meno due alfa, e qua non c'è questo, questo non c'è un piccolo segno. Siete d'accordo adesso? D'accordo? Quindi da qua io deduco che alfa più beta deve essere uguale a zero. che alfa meno beta deve essere uguale a uno e meno due alfa deve essere uguale a meno uno. Quindi da qua deduco subito che alfa è uguale a un mezzo, da qua deduco che beta deve essere uguale a meno alfa, quindi beta è uguale a meno un mezzo. Ed è meglio, per evitare che ci siano problemi, che alfa meno beta sia uguale a uno. Mi pare che sia così, no? Perché meno un mezzo meno un mezzo vale uno. Ok? Quindi la mia conclusione è che questo vale cosa? Un mezzo. E questo vale meno un mezzo. E quindi la mia formula è che ho un'eguaglianza di tipo dimensionale, non è un'eguaglianza numerica perché potrebbe essersi dei fattori numerici. Eh? Giusto? Che la velocità è uguale a 10 quadrata della tensione diviso il punto. E questo mi dice come varia la velocità, variando la tensione del filo e la massa per unità. lunghezza. Quindi due fili alla stessa tensione, ma uno che ha più massa per unità di lunghezza, la velocità di propagazione è più bassa. Quindi voi dovete pensare alla famosa chitarra, in cui avete un ancora, un cavo, poi un meccanismo in cui c'è la chiave per stringere. Quindi voi stringete il filo. Ha una certa tensione. Poi la corda più leggera, la corda acuta, ha una massa per unità di lunghezza più piccola della corda della nota profonda. E la corda della nota profonda come fanno ad aumentare la massa per unità di lunghezza? Quindi due fili, pesi nella stessa quantità, tensione uguale, ma uno è un filo di massa piccola rispetto a massa piccola per unità di lunghezza, l'altra ha più massa. Qua quale dei due vince la gara quando pizzicato uguale? Questa vince, ha una velocità maggiore di questa. Infatti c'è la classica dimostrazione che in teoria potrei fare in quest'aula perché abbiamo una grande e uno potrebbe attaccare a quel pilastro lì due corde e l'altra estremità magari qua, due corde identiche di stessa lunghezza ma una corda un po' massiccia, una corda di canapa magari da rambicatore e l'altra una corda più esile tipo la corda per stendere i panni, ok? e quindi uno ha il pilastro, l'altro pilastro, ha la corda esile, la cordona qua mette un foglio di carta, prende un foglio di carta e fa il cavalierino tipo quelli dove quando ci sono le conferenze stampa mettono il nome del... e mette il foglietto di carta qua, molto esile, magari una carta dell'ina qualcosa che basta o niente che lui cada e qua giù pizzicate nello stesso momento quale dei due cavalierini cadrà prima? cade quello dove gli arriva l'onda prima no? è una bella dimostrazione che un giorno si potrebbe fare ma non ho i soldi per cooperare cavi di canapa eccetera però devo fare con i soldi miei ok allora la metafora sbagliata della polarizzazione è questa vi fa capire ma è sottilmente sbagliata questa è la corda tesa e qua fate un'onda trasversa qua giù immaginate di avere un pezzo di legno una barriera in cui qualcuno ha intarsiato un buco così ok? con la corda che passa in mezzo e prosegue ok? quando voi fate così questo disturbo passa in mezzo al buco ci passa tranquillamente ok? passa dall'altra parte se il buco fosse stato fatto così non ci passava non vi pare? d'accordo? questo esemplifica il fatto che questo filtro fa passare le onde che sono orientate nel verso giusto e fa non passare le onde che sono entrate nel modo sbagliato per giusto si intende quando il foro è così sbagliato quando è così quindi questo schermo fa passare alcune cose e altre no qual'è il discriminante? è l'orientazione del piano di polarizzazione allora questo va bene per le corde non va bene per le onde elettromagnetiche perché in realtà come è fatto il polaroid? il polaroid ci sono delle lunghe molecole ci sono delle lunghe molecole e in queste molecole ci sono degli elettroni capaci di muoversi d'accordo? loro si muoveranno se c'è un campo elettrico che li sostinge potrebbe funzionare anche questo con un pezzo di metallo cioè invece di avere una molecola di plastica di materiale del polaroid potreste con il discorso che sto facendo anche immaginate un filo di rame un filo di rame messo così in cui avete un portatore di carica lui è libero di muoversi se avviene un campo del verso giusto allora ecco un campo elettromagnetico trasverso con la polarizzazione in questo verso quindi il campo elettrico sta dando su e giù nello stesso orientato com'è o questo filo di rame o la molecola quando l'onda arriva questo signore sente un campo che è su e giù quindi l'elettrone cosa fa? accelera su e giù, accelera su e giù quindi acquista energia di movimento che prima non aveva da dove prende l'energia? la prende dal campo! quindi cosa succede? che il campo cede energia al portatore di carica il portatore di carica l'assorbe e l'energia dal campo viene portata via quindi il campo si indebolisce invece si indebolisce cosa vuol dire? che il campo qua giù è più debole è più buio se invece il filo era così quando il campo sta andando su e giù l'elettrone non è capace di muoversi su e giù lui è solo capace di muoversi verso e sinistra il campo sta facendo così l'elettrone di forza in questa direzione non se ne fa niente non è capace di muoversi così lui in tutto il più muove così quindi l'elettrone non prende energia dal campo non lo assorbe e il campo non è diminuito di intensità e quindi vedete luce dall'altra parte vedete che la storia dello steccato va bene per le corde ma è l'opposto qua il filo di rame o la molecola nello stesso verso della polarizzazione vi assorbe energia e quindi il campo dall'altra parte è più debole è buio invece quando la molecola è messa o l'antenna o il filo di rame è messa perpendicolarmente alla direzione di propagazione non assorbe energia e il campo passa indisturbato quindi qua c'è un sottile messaggio che il campo trasporta energia se la cede ha meno energia d'accordo? quindi quello che sta succedendo è questo casomai facciamo la pausa ovviamente faccio il disegno perché il disegno ha le sue mancano 5 minuti facciamo la pausa io faccio il disegno e riprendiamo grazie grazie grazie